o guarda chi c'è è però occhio perché il vecchio fa un danno porco si vecchio fa danno però noi noi siamo due Bud Spencer contro due Terence Hill questo fra 12 anni ma boss Bobby Bullet beh perché praticamente lo chiamano Bobby Bullet per la misura del suo cazzo mi sa anche a me comunque sai che questo non è neanche dei Terence Hill sai cosa sono? ho visto il vecchietto del film lì di Clint Eastwood quello che viveva sulla ferrovia con la voce di Anacleto della spada nella roccia oddio no mi c'è ecco quello lì eh porco diaz che spalla però me l'hai ammazzato te ma perché io sono un ladro di cavalli come bambino e io li avrei anche sparati ah tutti capi tutto tuo eh te lo lascio che sennò dici che sono un ladro di cavalli no più che altro mi sono confuso il mio mino col tuo eh ma io non c'è più vita però non ti curo io fratello no non ti curo perché non c'è perché io sono io ti conosco tu sei capacissimo di dire che io sono un ladro di kill adesso è rotto i coglioni però eh ma io non vedevo la mia vita scendere qua eh bella merda ma è aiuta boss nooo eh figa tipo ha lanciato non mi devo curare non c'ho più vita boss ti curo io fermo qua boss mi hanno ritirato una coltellata in testa oh io non avevo più non avevo stun ma non l'ho potuto sparare no leg lo vedi devo cura eh si eh no 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 io lo c'ho qua ma l'ho ucciso ancora mi sto laggando di brutto non riesco neanche a scappare devo curarmi non posso curarmi non posso curarmi ok eh boss mi hanno dovuto crepare i tipi eh siamo sopra di uno e stiamo vincendo solo di uno passo sto curando io l'ho buttato fuori tipo è fatto bene eh boss è tornato in dentro l'ho fatto non lo so non è lui aiuto boss quello da fuori ti può sparare quello da fuori ti può sparare quello da fuori ti può sparare cioè abbiamo potenzialo via oddio io non c'ho più vita scappa 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 curare mi sembri di abbonatura estra boss mi sono messo male vieni qua te lo so è sempre giusto mi ha preso boss mi stai esplando ma no oh niente non si può uccidere fura mi va arriva ripari la posto occhio mi ha preso pureta puretta 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 bosco ci odiano ci odiano stessi tipo no non è uscito siamo due schifosi si ma sei sicuro che non possono scriverti un messaggino tipo che troppo no purtroppo no in dark souls mi avrebbero già mandato gli anatemi ecco vediamo se resta bobby bulle bobby bullet è quello babbo dei due bobby bullet è quello che è finito fuori si stavolta teniamolo dentro stavolta teniamolo dentro giochiamo legit comunque il vecchio è il più bastardo è il vecchio perché è agile e fa danno e poi con quella roba cioè se uno sa usare il coltello può farti male perché se lo vedi troppo tardi puoi anche non scappare ma poi coltello puoi dargli l'effetto è per quello per quello che si fa la curvetta io ogni tanto confondo il mio minuo col tuo io sempre alternative devo ricaricare posto lo passo quello chi è che ha guidato questo è sobrero è ma non avete capito che io qua sta in giro vabbè io devo curarmi niente non posso prenderlo non lo vedo ok ce l'ho minchia boss l'abbiamo gankato questa era una gang bang no amico non quittare che poi dopo dobbiamo farci tutti questi puddi bravo mi faccia o no eh allora no non hai capito non gusto no aspettato boss fammelo ammazzare ti prego tutto tuo grazie caro scuriamoci ah non devo neanche usare il mio medikit eh perché non bisogna trascurare le ferite minchia boss sembrava la bruciazione però bobby bullet è sportivo si poverino cioè è andato contro il plotone d'esecuzione cazzo ma è un eroe sembrava la fine di un giorno di ordinaria follia dai l'avrò fatta 3 kill 2-0 va bene player ok c'è già ti da fiducia vedi un petty che si chiama player poteva essere peggio solo se fosse chiamato player one eh ma è per quello poteva essere peggio solo se si fosse chiamato guest allora basta neanche su al gioco a me potrebbe essersi frizzato tutto pure a me in effetti la musica però sta andando no e va il gioco a me è partito a te anche a me forse quelli hanno quittato non so no io vedo un testo però io ne vedo solo uno il testo due oh ma è sempre a me devo rompere i coglioni via boss no no l'hanno ucciso eh ti ha tirato giù a te? eh tu prima mi hai fatto soltanto danni in più avevo preso un coltello boss mi ammazza e porco due ma guarda siamo pari eh non dobbiamo essere pari con questa gente eh lo so eh niente lo mandano in effetto hanno rotto i coglioni ok adesso ho capito io ti dico come funziona il tuo gioco quando ti pigliano quel coltello mi sa che ti fa molto più danno dopo perchè ho visto adesso che la mia vita andava giù in modo indecoroso cioè va bene tutto però non è io mi sto andando a curare dall'altra parte perché il porco mi seguiva oh si arrivo per curarmi per curarmi non cura butta butta no non cura boss devo curare ma donna io non c'ho più vita eh voglio solo dirti questo occhio per questo coltello è proprio bravo e dopo fa un danno un po' guarda vincente e sparisce che mi puro aiuto vieni 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 quando li prendiamo col coltster però che danno eh ecco no si è messo davanti va bene dai va bene così tipo il bodyguard nooo tipo tipo stai tipo omer per salvare la sua kill che schifo esatto è mio al rallenti prende il proiettile ma lo salvo guarda dopo faccio la clip e la metto al rallenti quella parte lì boss ma quando ci annoieremo di questo gioco dimmi la parte lì dettile in che